Un comitato di saggi formato da otto elementi, quattro da parte della regione, quattro sponda Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise per rigenerare un sistema virtuoso per la valorizzazione del turismo religioso nella nostra regione. Il patrimonio è vastissimo e per alcuni aspetti incontaminato, veri e propri tesori fruibili, con estrema difficoltà, nonostante la richiesta dal mercato sia in costante crescita. Basti pensare che in Italia il turismo religioso produce un'economia di circa 4 miliardi e mezzo l'anno. In Abruzzo, invece, mancano dati organici ed omogenei, ma il Dipartimento Turismo, che sta già operando in tal senso attraverso il sistema Sitra, è sicura che le presenze sono in aumento e che, anche grazie a questo protocollo, si potrà avere a breve un quadro ancora più preciso. Dagli anni del giubileo, purtroppo, molto è stato trascurato, ma, come ha ricordato in Conferenza Stampa, il Vescovo di Sulmona, Monsignor Michele Fusco, non si parte da zero. Lo stesso assessore regionale, Mauro Febo, pronto a scommettere sul rilancio di un settore troppo importante per l'economia del territorio, annuncia, tra l'altro, anche l'apertura di un ufficio apposito in assessorato. Si tratta, in sostanza, di individuare modalità più consone alla conoscenza, frizione e valorizzazione dei beni ecclesiastici e del patrimonio religioso materiale ed immateriale, per far sì, ad esempio, che il turista non incontri ostacoli di alcun tipo quando vuole visitare una delle tante bellezze, anche le più nascoste. Abbiamo degli scrigni, possiamo chiamarli, no? Nascosti, che nemmeno le persone del territorio conoscono e che sono preziosi, importanti, ma delle opere d'arti che veramente sono una realtà, un patrimonio. Questo patrimonio che ci è stato consegnato, ecco, dai nostri progenitori, ora vogliamo renderlo fruibile per tanti, anche per generare possibilità nuove, soprattutto per il lavoro dei giovani. E quindi, grazie a questo protocollo di intesa con la Regione, verranno in qualche modo affrontati i temi importanti come l'organizzazione, la fruibilità di determinate strutture, no? Certamente. Lo studio, la conoscenza, la formazione, saranno questi i punti su cui andremo avanti in questo cammino. Grazie a tutti.